Detto questo, è ovvio che a sentire gli agenti della polizia penitenziaria c'è un grandissimo problema che è quello della carenza di organico e vale tanto per la polizia penitenziaria quanto per le forze dell'ordine, penso a polizia, carabinieri, che più volte è stato evidenziato, è stato denunciato. A fronte di questo c'è un tema di risorse insufficienti anche a garantire non solo l'aumento di personale presente ma anche gli elementi di sicurezza all'interno dei nostri carceri e questo è ciò che accade. Mi chiedo se in un momento come quello particolare che stiamo vivendo, dove non c'è soltanto allarme terrorismo che purtroppo conosciamo bene, ma dove le nostre carceri, ahimè, sono strapiene per, diciamo... Sì, il sovraffollamento è un tema, è indubbiamente. Esatto, c'è un sovraffollamento particolare, soprattutto anche, lo dicono i dati statistici, non certo l'esponente leghista, ma da parte di persone non italiane. Mi chiedo se in questo momento non fosse invece opportuno, piuttosto che spendere soldi in giro magari per aerei di Stato, ma concentrare le poche risorse che ci sono in questo momento disponibili sul comparto sicurezza e per esempio su quello di accrescere il numero del personale della polizia penitenziaria.